Evento eccezionale a Torre Guaceto dove è stato avvistato un giovane esemplare di squalo elefante salvato dai pescatori e dagli operatori del consorzio di gestione di Torre Guaceto. Evento eccezionale a Torre Guaceto dove è stato avvistato un giovane esemplare di squalo elefante salvato dai pescatori e dagli operatori del consorzio. Cosimino e Vito De Biasi, questi nomi dei pescatori, hanno spiegato di aver appena salpato le reti posizionate all'esterno dell'area protetta e di essersi accorti di aver tirato su un grosso e strano pesce. Il personale del consorzio è giunto sul posto dopo aver allertato i ricercatori della stazione zoologica Anton Dorn, da qui la scoperta che ha lasciato tutti a bocca aperta. L'esemplare catturato era un piccolo di squalo elefante. Lo squalo è stato sottoposto a manovre di ossigenazione e poi liberato. Si tratta presumibilmente di una femmina di pochi mesi di vita, vista la lunghezza pari ad appena un metro e sessanta, specie attualmente protetta, un tempo catturata e usata per la produzione di olio di fegato. Lo squalo elefante è il secondo pesce più grande al mondo, arrivando a superare anche gli ottrometri di lunghezza. È un animale inoffensivo per l'uomo perché si nutre di plankton. Come sottolineato dai ricercatori, l'episodio è particolarmente eccezionale perché la cattura di esemplari giovani come la piccola salvata dal consorzio è molto rara. Siamo molto emozionati per la grande sorpresa e l'enorme soddisfazione poi che ci ha donato questo episodio, ha dichiarato il presidente del consorzio di gestione, Corrado Tarantino. Oggi si è compiuto un piccolo miracolo, abbiamo salvato la vita di un piccolo protetto.